Buona giornata amici di Fano TV, ben trovati alla rassegna stampa con le notizie del giorno tratte dal resto del Carlino e dal Corriere Adriatico con pagine locali. Oggi è mercoledì 14 dicembre 2022, il sole sorgerà tra poco alle 7.32 e tramonterà alle 16.30. Stiamo ancora procedendo verso il sostizio d'inverno, verso il 21 dicembre, quando sarà il giorno più corto e poi le giornate si allungheranno, almeno per quanto riguarda la luce. Vediamo anche il calendario del giorno, l'alunario del giorno e vediamo che oggi si festeggia San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce, un santo spagnolo, collaboratore di Santa Teresa d'Avila nella fondazione dei Carmelitani Scalzi. Ebbene, San Giovanni della Croce è uno dei più grandi mistici del XVI secolo, uno dei dottori della Chiesa, un pilastro appunto della fede cattolica. Vediamo anche le previsioni del tempo. Passiamo alla grafica, il tempo si mantiene instabile su tutta la regione con fenomeni diffusi nella tarda mattinata e cielo coperto. Le temperature massime non supereranno i 4 gradi, le minime 3, l'escursione termica è minima. Le temperature dunque si mantengono fredde questa mattina e nella giornata di oggi. I venti sulle coste spireranno da una direzione media, con una tensione media da ovest-nord-ovest, nell'interno invece da oriente e da est. Le temperature, come abbiamo detto, sono in calo, il mare è mosso. Ed ora passiamo alla lettura dei giornali, a partire dal resto del Carlino. E vediamo una denuncia, una denuncia che fa un personaggio noto. È stato un funzionario dell'amministrazione comunale. Si tratta di Francesco Giovanelli, lo vediamo qui nella fotografia. Giovanelli ci racconta una sua disavventura per la ricerca di un medico di guardia. Guardia medica, se c'è, è impossibile trovarla. Una peripezia fatta di notte tra i meandri delle vie nei pressi del pronto soccorso di Fano, dove dovrebbe essere il recapito della guardia medica. Ma è stata molto, molto difficile trovarla. Quasi una caccia al tesoro. Una caccia al tesoro per trovare appunto un servizio essenziale. E lui è un pensionato che ha, insomma, la sua agibilità. Se fosse stata magari una persona fragile, una donna, magari nelle ore notturne, la cosa non sarebbe stata affatto semplice. Tutto un racconto che Francesco Giovanelli fa per evidenziare quanto sia importante almeno la reperibilità di questo servizio. Certo non è responsabile il diretto medico che presta il servizio, ma lo è l'organizzazione che sovraintende al problema. Vediamo anche l'aspetto del centro Alzheimer che è stato evidenziato ieri in Consiglio regionale dal consigliere Luca Serfilippi, con una interrogazione rivolta all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Si parlava del centro Alzheimer. Serfilippi ha proposto di aumentare la convenzione nei confronti del centro Margherita da 18 a 30 posti. Però la risposta è stata negativa. L'assessore ha detto che non ci sono i fondi per effettuare questo miglioramento del servizio e attualmente il convenzionamento rimane così com'è. Vediamo le altre notizie. Ragazzi terribili sul palco. La seconda chance. Sono 50 i ragazzi che parteciperanno ad uno spettacolo. Uno spettacolo in programma domani sera a Fano, al Politeama. L'ingresso è libero. Uno spettacolo che viene allestito dall'Accademia dello Spettacolo. una istituzione che raggruppa ragazzi appassionati di recitazione, di canto, di danza. E questi realizzeranno una performance e tra di loro, e questa è la particolarità, ci saranno anche quattro ragazzi che hanno dei problemi giudiziari di carattere penale. Ebbene, passeranno, sconteranno la loro pena, si fa così per dire, con un servizio di rieducazione all'interno dell'Accademia dello Spettacolo. E alla fine parteciperanno a questa performance che verrà realizzata con canto, con danza e anche con recitazione. Si tratteranno dei temi di attualità molto, molto importanti, quali la violenza sulle donne, quali la mafia, la guerra. Insomma, sono veramente quei problemi che ci sovrastano in questo periodo di feste natalizie, in cui è bene fare una riflessione. Siamo riusciti a costruire un percorso educativo oltre le difficoltà, hanno detto gli organizzatori. Vediamo che i registi dello spettacolo sono Marco Florio ed Edoardo Frustaci. Poi abbiamo che l'iniziativa è patrocinata dall'assessorato alle pari opportunità e dal garante regionale dei diritti della persona. Ieri alla presentazione dello spettacolo ha partecipato in videoconferenza anche il sindaco Massimo Seri. Ed ora passiamo a Collid al Metauro, dove c'è la denuncia di un ristorante che per un guasto alla linea telefonica con la quale riceveva spesso le prenotazioni, ebbene si è vista ridotta in maniera molto molto importante la misura dei propri clienti. Telefono muto da 50 giorni e il ristorante si svuota. La denuncia delle sorelle Luzzi, titolari del storico da Luisa Serrungarina, siamo passati da 50 coperti a 4. Se continua così saremmo costretti a chiudere. Alla team, alla quale si sono rivolte appunto le proprietarie di questo ristorante per ripristinare la linea, non è stata data alcuna risposta. Case popolari pronte, mai consegnate a San Lorenzo in campo. Ci sono problemi burocratici. Ebbene, coloro che aspettano, quelli che sono in lista per ricevere queste case, si sono rivolte alla ditta che le ha costruite, ma la ditta ha detto noi abbiamo fatto tutti il nostro dovere, abbiamo fatto i certificati, abbiamo aspettato il nostro compito nei confronti dell'ERAP, ora aspetta l'ERAP consegnare gli appartamenti. Ma ci sono appunto le lungaggini burocratiche che tardano la consegna stessa. E questo è un problema da risolvere. Il sindaco Dell'Onti è intervenuto e vediamo, l'ERAP deve ancora comunicarci la disponibilità degli alloggi senza mai procedere. Questo è il titolo che appare sull'articolo. Case popolari pronte e mai consegnate. Giriamo la pagina e siamo a Urbino, dove c'è una notizia che riguarda l'accessibilità di Palazzo Ducale aumenta il costo dei biglietti. Palazzo Ducale aumenta il prezzo, si passa da 8 a 10 euro, Branchetti afferma, eravamo rimasti l'unico museo nella nostra fascia con questo costo, tutte le novità. Palazzo Ducale è una delle mete più importanti di tutte le marche perché custodisce la Galleria Nazionale. Ci sono dei quadri bellissimi, ci sono quadri di Raffaello, ma non solo di Raffaello. E poi il Palazzo Ducale con tutto il suo ambiente è una struttura culturale di grande importanza. 10 euro merita senz'altro di essere spesi per visitarlo. E poi c'è un altro monumento ad Urbino che merita una visita. E qual è? È il Monastero di Santa Chiara. È un monumento chiave di tutta la città. Domani si presentano le ristampe dei volumi sulla storia e l'architettura di questo palazzo. In occasione del decennale, domani mattina alle 11, nell'aula magna dell'Istituto in via Santa Chiara, Benelli Arte e Urbino Capoluogo presenteranno al pubblico i volumi, un capolavoro che risorge e ceramiche d'eccellenza. Sono due opere di prestigio dedicate, la prima ai dettagli del recupero dell'ex monastero, la seconda è focalizzata sulle maioliche ritrovate nel corso degli scavi. Sono due monumenti, due fonti di informazioni di particolare importanza. E poi ovviamente, oltre a leggere libri, conviene anche visitare quando è aperto, perché non sempre è aperto il monumento. Ed ora passiamo alla cronaca. L'attitante fugge sui tetti e preso dall'arma ad Urbino una movimentazione particolare per quanto riguarda l'arresto di questo malvivente. In seguimento a Urbino II, l'uomo, un marocchino, è stato bloccato e portato in carcere, dove deve scontare ancora più di tre anni, esattamente quattro anni e venti giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti. Ed è stata veramente un'azione movimentata, quella che si è vista sui tetti di Urbino, l'uomo che fuggiva saltava da un tetto all'altro e le forze dell'ordine che lo rincorrevano. L'articolo di spalla, Giacomo Rossi, Consiglio e Giunta, si impegnano a far bollire i contributi per le conserve alimentari. È stata presentata in Regione dal Consigliere regionale una mozione che è stata approvata alla unanimità. Ceriamo ancora la pagina e parliamo ancora dell'alluvione. La Regione batte cassa al Ministero Agricoltura. La Giunta ha formalizzato la richiesta per il riconoscimento della eccezionalità della calamità naturale. I danni vengono calcolati per decine di milioni. La Regione a questo momento non abbandona appunto i territori che sono stati alluvionati sono stati alluvionati tre mesi fa ma ancora molti devono ricevere i contributi che dovrebbero essere dati per risorgere sia per quanto riguarda le famiglie che per quanto riguarda le aziende. Giriamo ora la pagina del Corriere, del resto del Calino, scusate, sulla pagina di Pesaro e vediamo questa notizia di cronaca. L'omicidio che insanguinò il Natale in città scattano i processi ai sicari e al terzo uomo. Ebbene si tratta dell'omicidio di Marcello Bruzzese il fratello di un collaboratore di giustizia che fu assassinato a Pesaro alcuni anni fa ed ora si svolgono due processi due processi in due giorni per l'omicidio che ha insanguinato il Natale quattro anni fa Marcello Bruzzese, 51 anni era il fratello del pentito dell'Andrangheta Girolamo Biaggio ex affiliato alla Cosca Crea di Rizzicomi questa mattina si apre il giudizio di fronte alla corte d'assise di Pesaro contro Rocco Versace, 55 anni di Tauria Nova in provincia di Reggio Calabria accusato di aver aiutato a pianificare il delitto con appostamenti e pedinamenti ma domani invece ci sarà il turno ci sarà un altro processo nei confronti di coloro che materialmente hanno premuto il grilletto si tratta di Francesco Candiloro 43 anni di Polistena e Michelangelo Tripodi di 44 anni di Vibo Valencia i quali hanno scelto la modalità del rito abbreviato quindi saranno processati non a Pesaro ma dal Tribunale di Ancona e potranno anche usufruire di uno sconto di pena appunto per le modalità del processo che hanno scelto una vicenda che rese amaro quel Natale di 4 anni fa e qui vediamo un episodio che è drammatico ma è anche curioso è anche curioso perché? perché uno dei capi della moschea è stato accusato di aver dato schiaffi alla moglie ma per lui dare schiaffi alla moglie è una cosa normale quando si litiga insomma non è una cosa eccezionale quindi può essere tollerata in realtà non è così vediamo bene questa notizia schiaffi alla moglie davanti ai figli indagato uno dei capi della moschea lui avrebbe spiegato non la picchio sono cose che succedono quando una coppia litiga cioè dare schiaffi vuol dire non picchiarla ma la donna e i bambini sono stati portati in una casa protetta per lui nei suoi confronti è stato decretato il divieto di avvicinamento pensate che a comporre il numero di soccorso il numero di emergenza non è stata la vittima cioè non è stata la moglie che è un'italiana che si è convertita all'islam ma è stato uno dei figli uno dei figli minorenni ha chiamato il numero e ha detto guardate che c'è papà che picchia la mamma e sembra che il papà abbia alzato le mani anche nei confronti dei bambini la versione della madre non è bastata la madre ha minimizzato insomma non ha voluto portare la cosa alle estreme conseguenze ma questa versione non è bastata le forze dell'ordine le quali hanno portato il caso in procura e il PM Marino Cerioni ha ritenuto che la situazione fosse così a rischio da disporre il trasferimento in una casa protetta della donna e dei figli uno schiaffo non vuol dire picchiare non è maltrattare ma è una reazione normale quasi naturale così si è giustificato appunto il capo del Moschea questa pagina è ricca di episodi di cronaca vediamo qui un incendio va a fuoco la cucina mentre dorme salva per miracolo si è svegliata all'improvviso una donna che abita in via Lombroso a Pesalo intorno alle 3 e 30 avvertita dal fumo dall'odore acre che si era sprigionato dalla sua cucina la donna ha avvisato i vigili del fuoco che sono arrivati poco dopo non senza problemi perché la via è stretta e quindi non poteva entrare l'autobotte e quindi sono entrate con una campagnola hanno raggiunto l'abitazione della signora al secondo piano passando per la scala condominiale e quindi hanno spento l'incendio poi vediamo altre due notizie ladro nella pizzeria Tony un giovane albanese ha processo non ha fatto molta strada questo ladro che si è intrufolato nella pizzeria di via Milazzo poco prima che la pandemia si abattesse anche sull'Italia ebbene a ingarnarlo sarebbero state le impronte lasciate nel locale che hanno condotto gli inquirenti nella sua identità quindi è un furto che risale a qualche tempo fa che è stato appunto risolto in questi giorni specializzata in furto di alcolici condannata a otto mesi una coppia specializzata nel furto di alcolici erano già stati sorpresi in passato ora c'è una donna una componente appunto di questa coppia una 43enne originaria di Civitanova Marche il presunto complice invece ha 53 anni questa coppia è finita di nuovo davanti al giudice ed è stata condannata a 10 mesi di carcere pena inflitte per via delle tante bottiglie che sono dei super alcolici che sono state trovate nel bagagliaio dell'auto palazzine al porto ecco le quali due palazzine che dovrebbero sorgere nella zona del porto di Pesaro palazzine al porto di Scoverde il consiglio obbedisce al TAR qual è la notizia in questo caso ieri in consiglio comunale a Pesaro è stato cassato quindi cancellato il refuso del piano regolatore generale riguardante l'edificazione al porto dell'ex area del consorzio agrario da parte della società Nova Portum quello che chiedeva anzi imponeva il TAR Marche con la sua sentenza era appunto questo la cancellazione appunto di questo refuso uno solo uno solo ha lasciato i banchi nel momento della votazione si tratta di Giovanni dall'asta della Lega che è sempre stato contrario alla costruzione di palazzine in quell'area ma ormai la cosa è definita e il progetto andrà avanti i giornali parlano ancora dell'istituto zooprofilattico che dovrebbe sorgere alla Torraccia la parola ora passa agli esperti si è stabilito tra le parti c'è un contenzioso tra i residenti e l'amministrazione comunale un consiglio monotematico con il direttore Caputo intanto è congelata la vendita dei terreni insomma si cerca di chiarire se questo laboratorio di nuova istituzione potrà essere pericoloso per la zona sia per quanto riguarda l'ambiente che per quanto riguarda la sanità dei residenti ed ora passiamo al corriere adriatico chiudiamo il resto del Carlino apriamo il corriere adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che l'apertura riguarda degli investimenti che Aset fa nel sistema idrico sono investimenti che riguardano l'acquedotto bonifica dell'acquedotto lavori all'Ido e all'Arzilla l'articolo parla di tutti gli investimenti che l'Aset si accinge a fare nel 2023 investimenti per una cifra superiore agli 8 milioni di euro si farà un nuovo impianto di potabilizzazione dell'acqua di falda con il procedimento dell'osmosi inversa che produrrà 100 litri al secondo investimento è considerevole oltre 2 milioni e mezzo di euro e poi il programma include lavori di bonifica all'acquedotto cittadino nei quartieri del Lido e dell'Arzilla in modo particolare verranno realizzate condotte idriche su Viale Primo Maggio Viale Romagna e tutte le vie limitrofe l'obiettivo è quello di stabilizzare il servizio idrico nell'area servita insomma si cerca di migliorare il servizio importante è anche l'intervento che verrà attuato all'interno del serbatoio di Monte Illuminato dove avviene la miscelazione tra l'acqua di falda e l'acqua prelevata dal fiume Metauro verrà appunto consolidato e verrà anche bonificato l'interno in cemento del serbatoio sempre nell'anno che sta per iniziare prenderanno poi il via i lavori per la realizzazione dell'acquedotto nella zona di Bellocchi per un investimento di 650 mila euro ebbene insomma sono interventi importanti questi per la bonifica dell'acquedotto si elimineranno anche le perdite sappiamo quanto hanno durato i periodi di siccità negli ultimi anni quindi è bene che il servizio idrico venga potenziato e venga consolidato per non interrompere poi il servizio dell'acqua potabile in quest'altra pagina abbiamo un'apertura dedicata ad un incrocio pericoloso si tratta della rotatoria lungo la bretella che unisce la via Flaminia alla zona del Codma una rotatoria nel cui ingresso nel cui ingresso c'è scarsa visibilità è un problema che è stato sollevato dall'Udc dal referente politico Stefano Pollegioni dell'Udc che si è rivolto prima al Comune poi alla Società Autostrade ha interpellato anche la Prefettura e alla fine è riuscito a capire che la Società Autostrade ha passato dopo il collaudo la competenza al Comune di Fano che ora dovrà intervenire per risolvere questo problema vediamo qui in questa ricostruzione come le auto che si inseriscono nell'incrocio caratterizzato dalla rotatoria possono scontrarsi perché in questo caso con le barriere fonoassorbenti non c'è una sufficiente visibilità e quindi è un problema da risolvere sotto l'albero a Dell'Avis doni ai bambini prematuri è una iniziativa dell'Avis che avrà luogo domenica prossima dalle ore 15 per tutto il pomeriggio fino a sera una pesca di beneficenza a cui hanno aderito diverse associazioni che fanno parte della Proloco ma anche altre associazioni abbiamo anche la Pondolfaccia abbiamo diverse diverse organizzazioni che cosa fanno Vespa Club l'Albatros Viviamo Centinarola insomma altre associazioni che si uniscono insieme per aiutare una associazione importante si tratta di Prima del Tempo un'associazione che dà assistenza alle famiglie con bambini nati prematuramente sono bambini che non hanno raggiunto nel ventre della mamma i nove mesi di di prassi insomma sono nati prima e hanno bisogno essendo molto fragili di una grande importante assistenza sia all'interno dell'ospedale ma anche dopo quando vengono dimessi all'interno delle famiglie per un anno o due anche dopo appunto che hanno si sono un po' stabilizzati ebbene questa associazione prima del tempo gratuitamente offre assistenza offre consigli e offre anche tutto quello che può dare sicurezza alle nuove famiglie e quindi c'è una raccolta di fondi con una pesca di beneficenza che avrà luogo in piazza 20 settembre quando la cecità illumina il cuore una cena solidale che viene fatta al biricocco di Bellocchi si tratta di una iniziativa di Lepri un uomo colpito da cecità con oltre 100 adesioni e una iniziativa anche questa di carattere solidale che avrà luogo in prossimità del Natale passiamo a Fossombrone vediamo come l'intesa con le associazioni fa sì che nasca il tavolo economico si tratta di associazioni importanti come la CNA la LICLAI della Confartigianato la Confcommercio la Confesorcenti i quali hanno scelto di lavorare a fianco dell'amministrazione comunale per costruire insieme una progettualità specifica che acceleri il motore economico del territorio quindi un tavolo di carattere economico che esamini i problemi del lavoro della produzione dei compensi insomma di quello che si può fare per risolvere l'economia cittadina vediamo anche un articolo che riguarda Cantiano l'azienda agricola Morello dona un bonus ai dipendenti in busta paga 1500 euro in più i titolari il nostro grazie per il loro aiuto prezioso ci sono anche imprenditori illuminati che conoscono la ricchezza che costituisce appunto la forza lavoro i loro dipendenti l'organico delle loro imprese e queste vanno premiate quando ci sono le possibilità tre mezzi per il trasporto delle persone disabili a Frontone Serra e Frontone si aggiudicano il bando del finanziamento del PNRR e siamo in conclusione della nostra rassegna stampa a questo punto non posso far altro che darvi appuntamento alle 7 di domani mattina per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di oggi per capire per sapere che cosa accade nella giornata con il Tg Occhio alla Notizia questo primo momento è tutto a risentirci vi auguro buona giornata ciao 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 Grazie a tutti.